La Will lancia un allarme, sicurezza sull'aeroporto d'Abruzzo. A preoccupare il sindacato il bando ha ribasso per l'assegnazione dell'appalto sulla gestione della sicurezza. Secondo le informazioni ottenute dai sindacalisti, a rischio sarebbero i lavoratori non tutelati dalle direttive presenti nel bando. C'è un cambio di appalto, il cambio appalto è stato fatto al massimo ribasso e noi protestiamo contro questo, intanto perché è un criterio che non tiene conto del servizio da fare. Stiamo parlando di un servizio pubblico essenziale, di un servizio che è importantissimo per il funzionamento dell'aeroporto, anzi senza questo servizio non possono essere svolte le funzioni dell'aeroporto, per cui è un servizio fondamentale. In questo cambio appalto non si è tenuto assolutamente conto dei lavoratori che erano presenti, dei diritti e delle tutele e della salvaguardia di questi posti di lavoro. Per cui noi abbiamo già chiesto di rivedere il bando, di spostare i termini di presentazione delle domande perché è chiaro che chiediamo anche alla luce delle ultime vicende, quindi delle integrazioni della regione rispetto alla ricapitalizzazione, di verificare se ci sono requisiti per mettere condizioni più stringenti sia per le tutele dei lavoratori che per il servizio a svolgere. La richiesta del sindacatore è quella di produrre un nuovo documento che tuteli i lavoratori e per farlo nel frattempo spostare la scadenza del termine ultimo oltre il 17 luglio.